35 food truck provenienti da tutta Italia con 170 proposte culinarie diverse, 40 tipologie di birre artigianali, intrattenimento live per 4 giorni che si annunciano molto popolati. L'anno precedente infatti sono state ben 40.000 le visite al porto turistico di Pescara per l'ormai attesissimo street food time. Un tour quest'anno è diventato, abbiamo fatto la prima tappa, quella inaugurale all'Aquila con un successo strepitoso, più di 45.000 presenze. Siamo stati poi a Termo e finalmente ora siamo a Pescara al porto turistico con la seconda edizione pescarese, molto più grande, più track, più spazi, più intrattenimento live, più intrattenimento per bambini, il mega schermo per vedere le partite, tifare tutti quanti insieme e quindi c'è una per tutti i gusti. Un appuntamento dedicato a tutti a partire dalle 18 e fino a notte fonda, tante le offerte e le iniziative in campo per appassionati e curiosi, tutto incorniciato in una delle location più belle della città di Pescara. Partiamo dall'aperitivo fino a tardanotte con cibi di tutti i tipi, dai dolci per i bambini, appunto piatti di gran gourmet chi vuole assaggiare piatti un po' particolari ma abbraccia un po' tutti, gli adulti e i bambini.